Sì, tutto il viaggio da quando siamo arrivati là, noi non aspettavamo il ricevimento dei tifosi nel traghetto. Ha stato qualcosa in più per arrivare allo stadio e per vincere. Fortunatamente è così come si è fatto con uno a zero, è stato bello. Non mi aspettavo, anche io non mi aspettavo più gente di noi, ma dopo quel ricevimento nel ritorno a Messina tutto il giorno è stato benissimo. Sì, è normale, è stato anche in Slovenia che è più difficile, neanche il ciao. E qua è differente, ma sì, già sono tre mesi che sono qua e completamente la squadra, anche qualcuno intende di parlarmi in spagnolo, ma quello non è il problema, capisco tutto e si parla con il football. Sì, sì, quello è stato un punto importante perché sicuramente in queste tre prime partite non si è giocato molto bene, non si è sviluppare la palla, giocare sempre troppo indietro, si deve trovare la forma di andare più avanti, di creare più possibilità anche agli attaccanti per arrivare alla porta. No, il mio obiettivo è, come ho detto, il giorno della presentazione, che è portare la squadra a Serie B insieme a tutto il gruppo dei miei compagni, e fare il meglio per la società, per la squadra e anche per me, per gli attaccanti che vivono di fare il gol. No, no, è così, sempre in ogni squadra c'è cinque, sei attaccanti che questa settimana giochiamo sabato, dopo mercoledì, dopo domenica, lui o un altro attaccante possono giocare tutte le partite, e il mister, mentre più opzioni ce l'ha, è meglio. Io sono convinto che sicuramente giocare abbastanza. Sì, 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 è che in nessuna squadra è facile, ogni squadra luce tanto, tutti corrono, sicuramente, bueno, io ho visto queste tre giornate, tutte le partite hanno stato molto chiusi, nessun risultato di differenza. Sì, è così, loro hanno fatto tre parelli, noi non dobbiamo pensare in quello, noi dobbiamo fare uno, due, terzo gol, e sempre la palla nostra, no, non dare loro la possibilità di pareggiare, perché sì. Sì, quello è lo che mi sto io adattando, perché se gioca troppo vicino un attaccante e l'altro, sempre una distanza di sei metri, così, ma il campo a San Filippo è grande, c'è una dimensione abbastanza grande che per la mia velocità sicuramente approvvissare, come si dice, troverò, sì, molto spazio per parlare lunga, sì, forse non giocare vicino al meglio, ma sì, parlare lungo lo spazio, così. No, sì, 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 qua è più la marca, no, sempre più vicino il difensore, così, il fastidio dei colpi, tutto, ma è normale, sì, sì, non c'è problema. A me l'Upa Roma mi è piaciuto, in attacchi era forte, sì, la velocità di loro, e è lo che dico, nessuna squadra è facile in questo girone, forse qualcuno comincia adesso più forte e dopo va da sotto e così, così è il calcio, non si può dire niente.